Nel mondo del tennis, il gossip non si ferma mai, e stavolta al centro dell'attenzione c'è Anna Kalinskaya. La 25enne russa ha attirato l'interesse degli appassionati con una recente attività social che molti definiscono, sospetta. Mentre Sinner, suo presunto ex, era impegnato a scrivere nuove pagine della sua straordinaria stagione. Generalmente riservata sui social, soprattutto durante la sua relazione con l'Alto Atesino, la Kalinskaya ha cambiato marcia negli ultimi giorni. Su Instagram, ha condiviso una serie di contenuti, tra cui video dei suoi allenamenti a Miami, dove si sta preparando per la stagione 2025. I fan hanno apprezzato le immagini che mostrano dedizione, forma fisica impeccabile e grande concentrazione. Ma non sono mancati anche post dal sapore più personale e intimo, che hanno acceso i riflettori su dettagli curiosi. Uno di questi post, particolarmente chiacchierato, mostra un mazzo di fiori con in evidenza due iniziali, GM, accompagnate da un cuore e un, good morning. Un dettaglio che ha scatenato le teorie più disparate tra i fan. C'è forse una nuova fiamma nel cuore della Moscovita? Il tempismo non è passato inosservato. Questo, messaggio, è apparso mentre Sinner si trovava a Malaga per disputare la Coppa Davis, contribuendo in modo decisivo alla vittoria dell'Italia contro l'Argentina. In campo, il, rosso di San Candido, continua a rubare la scena, ma fuori dal rettangolo di gioco sembra che la Kalinskaya stia trovando il modo di attirare a sua volta i riflettori. Che sia un caso o una mossa strategica, i social della Kalinskaya stanno diventando un mix di passione sportiva e misteriosi indizi sentimentali. Resta da vedere se il tennis o il gossip riserveranno il prossimo colpo di scena.